Giovedì 16 giugno, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa prima dei quotidiani. Vi proponiamo le dichiarazioni del sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, che attacca duramente la delegazione parlamentare molisana. Dice che è inesistente. Sentite. Non si nasconde e non le manda a dire da amministratore e da sindaco punta il dito contro la politica e contro la delegazione parlamentare molisana. Marciano Ricci rimpiange e ricorda con piacere la politica con la P maiuscola, quella che era tra la gente e per la gente lavorava, la politica che ascoltava e risolveva i problemi. Io non li ho mai visti, non esiste. Ciò di loro dovrebbe essere per noi un supporto tra i popoli, i sindaci, la regione con la politica di Roma. Non fanno niente, prendono soltanto lo stipendio. Vanno il martedì di Roma e tornano il giovedì sera. Come dargli torto, a parte Antonio Federico, neocordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, gli altri rappresentanti del Molise a Roma sono spariti da ogni radar e si fanno notare solo per qualche sporadico ma insignificante comunicato stampa. Un vuoto evidente che per Ricci andrebbe colmato cambiando le persone e rivedendo altresì anche gli emolumenti. E intanto il piccolo Molise soffre, si veste a festa e si dà una speranza ogni qual volta i cittadini sono chiamati alle urne per tornare nell'oblio non appena si spengono i riflettori. Noi, i nostri leader di qualsiasi partita, non ne escludono nessuno, si ricordano in Molise soltanto il momento dell'elezione. Ogni cinque anni che ci sono le politiche arrivano il tempestinamento e tutti insieme sarebbero a dirgli bye bye, andate via. Quando vengono questi signori politici, anche segretari dei partiti, leader, gli dite ma noi non ci siamo soltanto adesso, siamo sempre. Questa è la politica purtroppo, io non ci credo nella politica, anzi c'è proprio un senso di distacco. Secondo il sindaco di Montaquila neanche il PNRR riuscirà a risollevare la regione e il paese perché molte risorse non verranno utilizzate. Come fanno gli enti a avere i progetti già pronti, esecutivi, se non hanno i soldi tecnici per pagarli a fare i progetti? I progetti non ce li hanno, noi come Comune qualche progetto siamo riusciti a farlo. E ora la cronaca a Campobasso, ieri sera in fiamme un auto articolato che era presente, ha udito un forte boato, poi le fiamme, state vedendo alcune immagini. E' accaduto in una via nella immediata periferia della cittadina, l'autista ha riportato delle ferite ma per fortuna è riuscito a mettersi in salvo. Immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco di Campobasso, sul posto anche due volanti della polizia sono in corso degli accertamenti. Ed ora il coronavirus con l'ultimo bollettino diffuso dall'azienda sanitaria regionale del Molise. Nessun decesso, nessun ricovero, nessun dimesso, nessun trasferimento al Cardarelli-Ide-Genti. Erano e sono 12, 167 invece i nuovi contagi, 23 persone positive al tampone molecolare, 144 all'antigenico, il tasso di positività si attesta al 20,5%, 607 i guariti e attualmente positivi scendono a 1.583. Ed ora vediamo i quotidiani. Iniziamo come sempre da primo piano Molise che apre con la politica, con le parole di Michele Iorio. Già in campagna elettorale punta tutto sulla sanità. L'ex presidente sfida Toma, applichi la legge approvata dal Consiglio e restituisca dignità agli ospedali, altrimenti si dimetta Palazzo Chigi affallito. Il commissariamento è un obrobbio politico e giuridico. Intanto al pronto soccorso del Veneziale è proclamato un nuovo stato di agitazione, disattese le promesse dell'Asenem. In taglio centrale c'è la cena con Papa e Frattura, Papa e Petescia, Frattura e Di Pardo. A giudizio l'ex governatore e il suo legale devono rispondere di calugna. Ci sono anche le dichiarazioni del sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, parlamentari assenti, comuni abbandonati. Ricci li rivedremo al ridosso delle elezioni. E poi la nomina Federico, capo dei 5 Stelle. Greco dice, greco apre, dice mi fido, ma poi vedremo l'approfondimento all'interno. Anzi, vediamolo subito l'approfondimento all'interno. Vi dicevo che Federico dice mi fido, ma lo ha intervistato Rita Iacobucci e dice con Antonio ci siamo già sentiti. Ve lo faccio vedere meglio e sono a sua disposizione, ma avrei preferito una legittimazione dal basso per i coordinatori. Alla fine ha deciso Giuseppe Conte. Torniamo sulla prima, eravamo anche a San Salvo, posti in tre anni, Amazon avvia le selezioni. E poi Auratino, caduto in Afghanistan, un parco giochi alla memoria del parà Alessandro Di Lisio. La cerimonia dovrebbe tenersi sabato. Di spalla l'editoriale, il punto dell'editoriale Luca Colella, Federico, l'ADC e la passione per la chitarra come toma. E poi in taglio alto ci sono i richiami di sport con i lupi, con il campo basso, mercato legato alle eventuali successioni. 16 calciatori per ora in rosa. Per la serie D, Capitan Ruggeri dà priorità al vasto Girardi. Termoli, altre due confirme. Poi il torneo di Corpus Domini, vittoria per Lombardia, Benevento e Campo Basso. Lasciamo Primo Piano Molise, andiamo sui quotidiani nazionali. Iniziamo come sempre dal Corriere della Sera che apre con questa notizia. Scudo anti-spread e la borsa vola. Mosca taglia del 15% il gas alleni. Il governo ha nessuna criticità, Xi a Putin, una soluzione per l'Ucraina. Guerra ed economia, annuncio della BCE per frenare l'inflazione. La Fed alza i tassi dello 0,75%. L'aumento più grande dal 1994. Lasciamo il Corriere e ci spostiamo su Repubblica. Repubblica che titola così il ricatto del gas. Repubblica fondato da Eugenio Scalfari e diretto da Maurizio Molinari. Mosca taglia del 15% le forniture all'Italia e di un altro 33% alla Germania. Accordo storico tra Egitto e Israele sul metano. Oggi Draghi, Macron e Schultz a Kiev in cerca di una soluzione europea comune al conflitto e alla crisi energetica. Intanto la BCE annuncia il nuovo scudo e ferma la corsa allo spread. In taglio centrale c'è questa immagine che spiega tutto. Si cita record. Si comincia a razionare l'acqua nella pianura padana. La stagione più arida da 70 anni. Questo è un argomento che troveremo anche su altri quotidiani. Lasciamo Repubblica e ora andiamo sui quotidiani romani. Iniziamo da Il Messaggero con questo titolo. La Russia taglia il gas all'Italia. Alleni il 15% di fornitura in meno. In estate le prime limitazioni. Prezzo in aumento. Oggi Draghi a Kiev con Macron e Schultz. Biden invierà aiuti e armi per un miliardo. E poi la grande siccità. Vi dicevo che anche altri quotidiani se ne sarebbero occupati. Scorte di acqua per dieci giorni. Dopo può scattare il razionamento. La foto si riferisce al Tevere all'altezza di Ponte Sant'Angelo. Dal Messaggero al Tempo. Il Tempo si concentra sul futuro del governo. Draghi ha perso l'immunità. Super Mario sotto attacco dopo l'avviso di Conte. Ora è il turno di Salvini che in sostanza ha detto che bisogna abbassare le tasse da qui a breve. Altrimenti sarà difficile andare avanti. Il leader della Lega duro risposte su fisco e benzina. O a settembre crolla tutto. Ecco proprio quello che vi dicevo. Eppure sullo spread il Premier non è più una garanzia. È dovuta intervenire la BCE. Poi il Tempo vi propone questa foto. TMB di Malagrotta. In fiamme. Roma così è al collasso con i rifiuti. Timore, nube, tossica. Sulla capitale chiusure anche degli asili e dei centri estivi. Ora ci spostiamo sul fatto quotidiano che punta tutto sulla guerra che secondo il fatto va sempre peggio e la Nato invia armi pesanti. Ucraina, Stoltenberg, missili a lungo raggio. Ma i russi avanzano. E intanto il New York Times e Blomberg contro Biden. Il mondo ha finito la pazienza. E lui le idee per uscire dallo stallo. Le sanzioni. Un boomerang. E ancora Mosca colpisce. Roma e Berlino. Meno gas. Prezzi su. In taglio alto il fatto quotidiano si occupa anche del caso Corriere. Urso, presidente del Copa. Si dice nei quattro report del DISS non ci sono né Orsini né gli altri cinque. Non erano presenti nemmeno nei tre precedenti bollettini del DISS. Lasciamo il fatto quotidiano. Vediamo la prima del manifesto. La manifesto che punta tutto su un report sul rapporto shock dell'Istat. Il rapporto shock dell'Istat dice che quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta in Italia. Miseria e povertà è il titolo di questa immagine. Il rapporto shock dell'Istat è lo stesso livello del 2020. La crisi economica peggiorerà senza una riforma radicale del welfare. Intervista a Chiara Saraceno. Bene il reddito di cittadinanza. Ma non basta. I giovani sono i più penalizzati. Mentre in taglio alto si parla di eurocaccia al gas chiunque lo venda la Unione Europea firma l'accordo con l'Egitto di Al-Sisi e Gazprom taglia del 15% i flussi all'Italia. Diamo uno sguardo anche alla prima pagina della Verità quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. È iniziata la grande retromarcia. Oltre 100 giorni di conflitto fanno cadere tante bugie. Chi diceva che l'Ucraina poteva vincere ora è meno ottimista. Nel Donbass le truppe di Mosca continuano ad avanzare e fare morti. Dopo mesi sanzioni e tensioni sulle materie prime fanno male certo a noi e danni incerti a Putin anche in America si fa strada a una posizione realista. Tensioni col presidente simbolo. Qualcosa sta cambiando. Speriamo serva Macron. Adesso usa toni diversi. Zelensky dovrà trattare oggi a Kiev con Draghi e Schultz. Poi speranza positivo al Covid. la verità ironizza delira sulle mascherine e sui mezzi sì sugli aerei no. Il sole 24 ore il quotidiano economico finanziario di Confindustria si occupa di fisco con le nuove scadenze. Scusatemi questo è il Corriere della Sera. Dobbiamo vedere il sole 24 ore. prendiamo il sole 24 ore che come vi dicevo si occupa di fisco con le nuove scadenze. Arriva eccolo semplificazioni in consiglio dei ministri aiuti di Stato possibile la proroga al 31 ottobre per inviare la dichiarazione cambia il modello per l'Imu che potrà essere presentata entro il 31 dicembre del 2022. Chiudiamo con lo sport con la rosa con la gazzetta che propone questa foto sarebbe un grandissimo colpo di mercato un graditissimo ritorno in casa Inter arriva Lukaku Inter ci siamo vertice tra i neri azzurri e il Chelsea buttate le basi per il prestito secco la distanza ormai è solo di 5 milioni e intanto arriva ecco Aslani il vice Brozovic all'Empoli va Satriano mentre a proposito di numeri 9 uno dei attaccanti più gettonati in tutta Europa è Osimen del Napoli che scatena il domino dei bomber il Napoli vuole 100 milioni se parte c'è Scamacca del Sassuolo bene è tutto prima dei saluti diamo uno sguardo al palinzesto vediamo velocemente cosa troverete sulla nostra rete oggi Paese Mio l'incontro di Doretta Coloccia e poi l'informazione alle 14 in diretta con la collega Rita Iacobucci informazione che andrà in onda anche alle 19.30 alle 23 mentre alle 21 c'è Franco Presutti con i suoi ospiti tra gli altri massimo barometro per parlare del Campobasso del presente e del futuro del Campobasso bene è davvero tutto grazie per averci scelto buona mattinata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti